Giovedì 14 settembre ci troviamo a Taranto per un nuovo workshop d'infoprogetto organizzato da Action Group Editore. 250 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo edificio, impianto, metodi, soluzioni, materiali e progettazione nell'architettura del domani. Tanti temi che abbiamo discusso con i progettisti e con le aziende presenti oggi a questa giornata. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. È stato utile per la pratica dei progettisti, gli architetti, ingegneri e geometri in generale ai quali abbiamo raccontato un po' quello che il mercato delle vernici offre. È stata occasione sia per i progettisti più esperti di fare un refresh su quelle che sono le varie tipologie di vernici e per i progettisti più giovani mi auguro che possa essere stata una linea guida su come andare a recuperare in maniera sapiente, precisa e puntuale i nostri immobili che rappresentano il nostro patrimonio. Io faccio sempre questa considerazione. Chi acquista casa si indebita quasi tutta la vita con il mutuo e quant'altro. Quindi è corretto e giusto poter offrire dal punto di vista progettuale dei prodotti anche nelle vernici che molte volte possono sembrare avere un'importanza relativamente bassa e invece è il vestito dell'edificio, quindi garantire una durata nel tempo sempre più lunga in modo tale da andare a inficiare sempre meno sul budget delle famiglie. I progettisti di Taranto, i quali conosco bene, è una partita sempre interessata. Nonostante Taranto non offra uno sviluppo lavorativo per i progettisti eclatante e frizzante come possa essere una città come Milano ma ovviamente essendo un po' più periferica mostra sempre interesse alle novità che il mercato, le aziende e i relatori scientifici possono portare. Diciamo che io trovo sempre un interesse e un entusiasmo da parte dei progettisti anche se questo entusiasmo molte volte non corrisponde all'offerta lavorativa sul mercato.